Storie di amicizie che sembravano impossibili e che non finiranno mai Storie di amori promessi, sbocciati, traditi e pure negati Storie di sentimenti che a volte feriscono e regalano lacrime Ma che danno la forza di vivere e continuare a sperare in un futuro migliore Perché la speranza è quel mare fuori Mare fuori, dal primo febbraio la terza stagione in esclusiva assoluta Solo su RaiPlay Mare fuori, dal primo febbraio la terza stagione in esclusiva assoluta Grazie a tutti! Grazie a tutti!